Stiamo rivedendo e ristrutturando anche il sistema organico della Polizia Locale, quindi questo per consentire maggior presenza sul territorio rinnovando un sistema strategicamente più operativo. Una situazione non facile quella trovata dall'assessore in tema di sicurezza. Si trova a dover risolvere tutta una serie di questioni lasciate a terra di nessuno sino ad oggi e con l'insicurezza reale oltre che percepita di tutta la cittadinanza del territorio. Questo diventa per noi maggior stimolo da operatori nel risolvere decisamente problemi che non possono continuare ad esistere.